Siamo all'interno del McDonald's di Via Esonso dove sta avendo praticamente una pausa la manifestazione organizzata da Giuseppe Moschetta, il McDonald's Baby Cup, il trofeo appunto della Befana. Siamo qui con le falasche, con il dirigente e l'allenatore, anche molti giocatori che hanno preso parte a questa bella manifestazione della mattina. Chiediamo subito un parere al dirigente, insomma che cosa possiamo dire, una bella manifestazione questa? Sì sicuramente, molto bella, ben organizzata, lo dimostra il fatto che i bambini si stanno molto divertendo e sono presi da questa manifestazione, anche per la completezza della manifestazione perché pranzo a McDonald's, premiazione finale, quindi molto bella. Chiediamo invece al mister, ci ricorda il cognome? Vernile Signor Vernile, insomma una bella manifestazione, vi stai divertendo molto e questo momento di ritrovo sicuramente è speciale per tutti voi. Sì come già detto il dirigente, bella manifestazione, bell'incontro per i bambini, organizzata molto bene e noi siamo a disposizione per tutte le opere benefiche, messe a disposizione anche dal McDonald's.